Buonasera a tutte e a tutti. Sono Raso Rossana, una psicologa psicoterapeuta sistemico-relazionale, il che molto sinteticamente significa che nel mio lavoro con le persone, con le coppie o con le famiglie, l'attenzione che pongo non è semplicemente sulla persona, nella sua interiorità e nella sua individualità, ma va anche sul contesto di vita in cui è inserita, sull'ambiente, sulle relazioni, sulla storia di vita, sulla storia familiare e questo penso che si capirà rispetto al discorso che farò adesso, questo focus più allargato penso che emergerà dalle mie parole. L'intervento di questa sera è sugli stereotipi di genere, sui impatti che questi possono avere sullo sviluppo dell'individualità, sullo sviluppo della persona. L'intento è quello di riflettere, confrontarsi un po' insieme su quanto possano essere delle teri e su quanto possano rappresentare delle vere e proprie gabbe nello sviluppo della propria identità. Per farlo inevitabilmente servirà a focalizzare prima un attimo su che cos'è lo sviluppo, come funziona, come si esplica nella vita. Questo è ciò che hanno studiato delle discipline come la psicologia dell'età evolutiva e la psicologia dello sviluppo. Lo hanno fatto ovviamente sul macro, cioè su come funziona a livello generale la crescita e lo sviluppo delle persone. Poi su questo si inseriscono ovviamente le differenze individuali, però almeno hanno cercato di individuare delle traiettorie comuni con le differenze, perché la psicologia dell'età evolutiva si è soffermata sullo studio della fascia di età 0-18 anni. Invece la psicologia dello sviluppo ha un focus più ampio, perché considera la crescita, l'acquisizione e il cambiamento lungo l'intero ciclo di vita. Non lo considera come qualcosa che si esaurisce in infanzia e in adolescenza, ma è qualcosa che prosegue lungo tutta la vita. Ci sono state molte teorizzazioni che si sono susseguite in queste discipline e ognuna ha dato un peso diverso alle varie componenti che poi interagiscono nella crescita e nello sviluppo di ognuno. L'eterno dibattito che ha caratterizzato questi studi è stato quello tra natura e cultura, ovvero tra fattori genetici, dotazione di base e fattori ambientali, il contesto in cui viviamo e siamo inseriti. La domanda primaria era un po' siamo quello che siamo perché ne siamo condizionati dalla nostra genetica, dalla nostra dotazione di base o per l'influenza che il nostro contesto di vita, il nostro ambiente esercita su di noi, oppure per l'interazione tra le due. Ogni disciplina, ogni teoria ha risposto secondo la propria teorizzazione, quindi le teorie innatiste hanno risposto a questa domanda facendo focus sugli aspetti e i fattori genetici, quindi il primato della dotazione di base in questa risposta. Le teorie comportamentiste hanno risposto rispetto al contesto, quindi il primato dell'ambiente è invece un'individualità passiva nel ricevere dall'esterno e le teorie organismiche invece si sono risposte rispetto all'interazione tra le due componenti. lo sviluppo viene inteso per fasi, per fasi che alcune teorie hanno indicato come caratterizzate da differenze quantitative, il che significa che parlano di cambiamenti che si accumulano nel tempo, di capacità una via l'altra, un accumulo insomma, e di una passività dell'individuo rispetto a quello che arriva da fuori, è l'esperienza che plasma e invece i bambini e le bambine rimangono passivi rispetto a quello che arriva da fuori e queste sono le teorie comportamentiste. Altre teorie hanno invece parlato di differenze qualitative, in questo caso non si parla di componenti capacità una via l'altra, ma di trasformazione delle capacità che sono già presenti, ossia una complessificazione di ogni acquisizione. C'è un'acquisizione che è presente e man mano che si cresce non è che ne arriva una totalmente nuova, ma quella già presente si arricchisce, si complessifica, si dirama e in questo l'individuo, bambini e bambine, sono visti come attivi, attivi costruttori della propria esperienza, della propria conoscenza. Queste sono poi le teorie di Piaget, di Vygotsky, di Brunner, tra gli altri. Proseguendo poi lungo le teorizzazioni che hanno caratterizzato le discipline di sviluppo e psicologia evolutiva, le idee si sono arricchite, c'è stato l'apporto di altre questioni, altre tematiche, ad esempio si sono arricchite dell'apporto del sociale, con soprattutto tra gli altri Vygotsky e Brunner. Il sociale nel senso di individuo immerso in qualcosa che preesiste a lui, che lo aiuta nell'acquisizione. Vygotsky in particolare ha parlato della zona di sviluppo prossimale, Brunner ha parlato dello scaffolding e entrambi intendono un po' come il sociale sia un facilitatore dell'apprendimento, nel senso che come una sorta di tutoraggio. Ad esempio Vygotsky parlava del fatto che c'è uno scarto tra quello che il bambino è in grado di fare in ogni fase e quello che sarebbe potenzialmente in grado di fare con il supporto di qualcuno che ha delle capacità in più, può essere l'adulto o che può essere un pari un po' più avanti nelle acquisizioni, quindi anche l'importanza poi magari dell'apprendimento tra pari. Brunner ha parlato di qualcosa di molto simile con il concetto di scaffolding, che significa proprio una vera e propria impalcatura su cui il bambino si può appoggiare nel suo sviluppo appoggiandosi su capacità di chi è un po' più avanti di lui, dei suoi caregiver. Si sono poi susseguite varie teorie in cui si sono focalizzati i sistemi in cui i bambini e le bambini erano inseriti, sistemi a grandezza crescente che li coinvolgono, che sono ad esempio Bronfenbrenner parla di microsistema, mesosistema, esosistema e macrosistema che sono, allora il microsistema è quello della famiglia, proprio quello più stretto, poi ci sono i sistemi crescenti come quello scolastico, come quello del lavoro dei genitori e tutti i sistemi interagiscono l'uno con l'altro e hanno un apporto sul bambini e bambine e i bambini e bambine hanno comunque un'influenza sui vari sistemi, quindi si parla proprio di influenza che circola a livello proprio tra il micro e il macro. Altre teorie si sono focalizzate primariamente sulla relazione di riferimento, quindi Volbi esterna ad esempio tra gli altri, Volbi parlando della madre sufficientemente buona, dei caregiver di riferimento, Stern parlando dell'intersoggettività primaria, del fatto che il bambino è fin da subito immerso nelle relazioni ed è un attivo partecipante in queste relazioni. Sulla relazione di riferimento e la sua importanza rifletteremo in seguito, nello specifico. C'è poi stato l'apporto dell'impatto di quello che si è scoperto rispetto alle esperienze precoci nella vita intrauterina, si è visto e si è capito come le esperienze sensoriali arrivino prestissimo nello sviluppo infantile, nello sviluppo della persona, si è visto come si possa quasi parlare di memoria sensoriale, non memoria esplicita ovviamente perché quella si forma molto in seguito rispetto alla vita intrauterina, però anche solo il fatto che ci sono gusti, ci sono odori, ci sono sensazioni che ci arrivano prestissimo e che possono rimanere dentro di noi perché magari poi quando le ritroviamo nella nostra vita, non dico che ce le si ricordi, ma hanno non so che di familiare, quello si è visto come già ci sia nell'utero materno e si parla anche poi delle influenze rispetto alle attivazioni materne, le attivazioni ormonali che hanno poi un impatto sul feto. Ci sono poi stati gli apporti delle neuroscienze molto importanti che hanno messo proprio le basi fisiche della maturazione, di quello che succede nello sviluppo, varie scoperte su come varie aree cerebrali si sviluppino e si attivino a un certo punto e quindi questo ha posto poi delle evidenze fisiche rispetto alle varie acquisizioni. Ci sono stati apporti rispetto all'impatto e l'importanza della storia familiare, dell'intergenerazionale, di come tematiche, questioni, sentimenti, esperienze si tramandino di generazione in generazione a livello implicito, a livello esplicito. Ci sono stati molti studi, ci sono adesso molti studi rispetto alla trasmissione anche solo, tra virgolette, del trauma e degli esiti traumatici, di come una situazione traumatica vissuta in una certa generazione si possa trasporre, trascinare e avere degli impatti anche in generazioni successive. C'è stato e c'è poi l'apporto del culturale, della matrice culturale in cui tutti siamo inseriti e che inevitabilmente ha dei risvolti e dei richiami su di noi. Sempre più quindi si sono rese evidenti le varie influenze, le influenze plurime sullo sviluppo, quindi non si sta più tanto supprimato di una componente più che sull'altra, quindi al di là del peso delle varie componenti che ogni teoria può assegnare, si è visto come la biologia, l'individualità che quindi è fatta sia di carattere che è di temperamento, di caratteristiche innate, sia la cultura, sia le interazioni sociali, l'ambiente, le interazioni, quello che ci succede, quindi gli eventi interagiscono tra loro, si influenzano la vicenda, si amalgamano e nella creazione della nostra identità hanno un ruolo fatto di conferme e di sconferme che poi conducono allo strutturarsi di questa identità. E da qui è dal fatto che ci siano tante componenti che influenzano il nostro sviluppo, dal fatto che la cultura abbia un grosso impatto, le relazioni abbiano un grosso impatto, l'ambiente abbia il suo impatto, l'importanza di considerare e problematizzare sull'impatto della costruzione sociale e culturale del genere, l'impatto degli influssi di questa costruzione. Quindi lo sviluppo vediamo che si caratterizza per differenti componenti, attraverso la relazione, per la sperimentazione e manipolazione su di sé e sul mondo, per la maturazione delle aree cerebrali e le acquisizioni delle competenze, per l'osservazione limitazione, per generalizzazione delle esperienze che ritornano nella nostra vita. Adesso le vediamo un pochino più nello specifico. La relazione intesa come quella primaria, quella stretta con le figure di riferimento, con i caregiver, è il primissimo contesto e più importante contesto di apprendimento, di crescita e di sviluppo. Quella ottimale viene intesa come un legame accogliente, un legame sereno in cui ci sia il rispecchiamento di sé e dell'altro, un legame responsivo in cui c'è un accorgersi dei bisogni, un rispondere ai bisogni, un legame che dovrebbe essere propositivo e permettere e incoraggiare il fatto di sperimentare e osservare rapporti causa-effetto costruttivi che permettano poi di sviluppare apprendimenti che siano arricchenti per i bambini. I bambini piccoli infatti sono bene o male invasi da attivazioni fisiche, fisiologiche, emotive, sono quasi bombardati da esperienze e tutto ciò è inevitabilmente difficile da comprendere, per loro anzi incomprensibile, arrivano loro tutta una serie di attivazioni che loro non sanno cosa siano, come interpretarle, come gestirle e qui c'è il bisogno dell'accompagnamento, della guida e del sostegno delle figure di riferimento che man mano aiutano i bambini a capire che cosa stanno vivendo, rispondono ai bambini in un certo modo e quindi li aiutano a gestire, a comprendere, a imparare man mano, quindi è come se le figure di riferimento fornissero la loro mente in prestito a bambini e bambine lungo la via della loro crescita man mano che riescono a interiorizzare esperienze e competenze. Questo non per dire che ci debba essere una relazione perfetta, perché una relazione perfetta, la perfezione non esiste, non può esistere e anzi il fatto di sperimentare delle rotture in questi processi di risposta e di comprensione dei bisogni è importante, importante perché permette poi la riparazione, quindi più che una sincronia perfetta è importante per il bambino e il caregiver sperimentare come a volte magari non ci si capisca al volo, non si comprenda perfettamente il bisogno dell'altro, ma ci sia la possibilità dopo una rottura di risincronizzarsi, rimettersi sul pezzo e riparare quello che è mancato. Questo dà la misura a entrambi, ma soprattutto poi crescendo al bambino della possibilità di impegnarsi, di metterci la volontà, la ricerca di comprendersi reciprocamente anche se non è una cosa così immediata, subito. Veniamo poi a un altro importante aspetto nell'apprendimento che è quello della sperimentazione e manipolazione sia sul proprio corpo che sul mondo. Piaget le chiamava reazioni circolari, i bambini come sappiamo conoscono il mondo primariamente con la parte tattile, con la bocca, con le loro azioni, sia su di sé che sul mondo. Abbiamo esperienza di bambini che mettono tutto in bocca, che si manipolano, che mettono le mani, i piedi in bocca, questo è il loro modo di iniziare a conoscere se stessi e il mondo. Sono tutte azioni che sono inizialmente casuali, capitano, poi man mano arriva la finalizzazione di queste azioni. Questo modo di procedere un po' per prove, per prove di errori, porta col tempo a codificare, a categorizzare la realtà, a categorizzare la relazione, quello che succede intorno a loro, perché in base alle risposte che il bambino riceverà, in base alle conseguenze di quello che lui fa, inizia a farsi un'opinione di quello che succede, un'opinione anche di sé, in base a risposte che riceve o che non riceve. E così iniziano a porsi poi le basi del legame di attaccamento, del senso di sé. Un'altra componente, altri due componenti molto importanti nell'apprendimento, nello sviluppo, sono osservazione e imitazione, che vanno in parallelo, perché dall'osservazione consegue l'imitazione, imitazione che permette di maneggiare la situazione, sperimentarsi, capire. Un esempio molto importante di osservazione e imitazione è il gioco, che nei bambini è un'occasione importantissima, un'occasione per testarsi, per conoscere il mondo, per prendere le misure su cosa succede intorno a lui, lei, per maneggiare la situazione. Diciamo che il gioco rappresenta un po' uno specchio, spesso, per molti genitori ad esempio, di quello che il bambino e la bambina vedono intorno a loro. Lì è in quel momento che loro mettono in atto quello che osservano e mettono in atto le loro risorse per comprendere, maneggiare la situazione e imparare a fare certe cose che vedono fare intorno a loro. E inevitabilmente da questo si capisce l'importanza del modello dell'adulto, perché i bambini sono delle spugne, assorbono quello che vedono, quello che vivono e poi lo ripropongono loro stessi. Quindi l'apprendimento non passa soltanto dalla parola, dalla spiegazione, dal gesto esplicito, ma può passare e passa grandemente dall'implicito che c'è nell'ambiente di vita, nell'ambiente relazionale. Un esempio di modello esplicito è ovviamente, come dicevo prima, quello che voglio spiegare, quello che volontariamente voglio insegnare ai bambini, sia come genitore, sia come educatore, sia come qualsiasi figura di riferimento per i bambini. Quindi quello che io vado a esplicitamente dire, passare come spiegazione. Un modello implicito invece è quello che passa dal comportamento adulto, dall'atteggiamento adulto, che può essere non intenzionale, può essere inconsapevole, non necessariamente mi comporto in un certo modo e sempre sono consapevole di quello che sto facendo, però sempre invece passa questo atteggiamento, questo comportamento. Ci sono molti studi che parlano di come spesso sia molto più impattante un modello implicito rispetto a un modello esplicito, come lasci più il segno, passi più facilmente e si inserisca più facilmente nell'apprendimento infantile, non quello che io sto a spiegare, ma spesso quello che io passo senza neanche tanto rendermene conto. Rispetto agli stereotipi di genere è molto importante perché esistono studi che parlano del fatto che gli stereotipi di genere passino molto dal comportamento e dall'atteggiamento implicito rispetto a questi stessi stereotipi più che dalla spiegazione che poi ne vado a fare. Quindi a livello di questa riflessione, di questo confronto è anche importante tenere in considerazione che dovrebbero un po' essere intrecciate queste due componenti per far sì che ci sia davvero una possibilità di cambiamento, perché banalmente se, adesso parlo del contesto relazionale stretto, del contesto familiare, se mamma e papà mi spiegano che non esistono strade prebattute rispetto al stesso femminile o rispetto al sesso maschile nell'ambito delle scelte, mi dicono che non esistono giochi da maschi e giochi da femmine, mi spiegano questo, però poi magari mamma e papà sono molto invece definiti e rigidi sui loro ruoli stereotipati, ad esempio mamma è l'unica che in casa cucina, lava, stira, papà è l'unico che in casa cambia le lampadine e fa un altro tipo di attività, l'implicito mi dice una cosa e l'esplicito me ne dice un'altra, si crea confusione, è importante che viaggino sulla stessa onda, altrimenti rischia di avere più peso quello che vedo, quello che vedo fare rispetto a quello che sento che mi viene detto. Da osservazione e imitazione consegue il fatto che più vedo accadere una cosa, più diventa ridondante, più per me è attesa, è normale, quindi io mi aspetto che vada così, mi aspetto che sia giusto che sia così e si crea l'apprendimento, quindi esporto i modelli che vivo. Parliamo un attimo della categorizzazione, che è uno dei processi attraverso i quali impariamo. La categorizzazione ci permette di semplificare il mondo, di massimizzare il risparmio di risorse cognitive ed emotive, perché io categorizzo una volta, metto etichette in casello e in questo modo è fatto per le volte successive e non devo tutte le volte mettermi lì e fare lo stesso procedimento. Quindi grazie alle categorie, alla classificazione posso raggruppare le nozioni, mettere insieme quelle simili, opporle a quelle differenti, posso richiamare velocemente delle informazioni che mi servono nella vita quotidiana senza dover metterci troppo tempo. Questo può essere molto importante proprio a livello di risparmio di risorse, è la categorizzazione che mi permette ad esempio di sapere tra le altre cose che non so, le rose hanno le spine, le spine pungono e fanno male e quindi se io mi accingo a prendere una rosa, magari io le spine tutte le volte non le vedo, però sapendo perché ho categorizzato che le rose hanno le spine, sto attenta perché così non mi pungo, così le maneggio senza farmi del male e questo è una risorsa evolutiva importante. Il rischio è il fatto di tenersi e avere delle categorie che non sono elastiche, non si lasciano plasmare dall'esperienza ma sono rigide. Quando ad esempio la categoria che io ho non mi permette di confrontarmi con la realtà ma con quello che io ho in testa, quando uso le categorie facendo della caratteristica di quella categoria, la totalità ad esempio capita di confrontarsi, di incontrare le persone, incontro ad esempio una persona di bell'aspetto, questo fatto, solo il fatto che sia di bell'aspetto può portarmi a considerare quella persona senza conoscerla, senza sapere che personalità abbia, che sia anche per similarità, una persona anche socievole, una persona anche intelligente, ma io so solo che è una persona di bell'aspetto, quindi questa sua caratteristica come alone, come effetto alone me la fa considerare in tutto una persona positiva, ma io non lo so e questo non è poi la realtà magari. Oppure il rischio è quello di assimilare qualcosa di cui non ho alcun tipo di esperienza, ma l'assimilo per il sentito dire, perché è un'etichetta che mi è stata passata ed è quello che succede con pregiudizi e stereotipi. Quindi anche se il fatto di categorizzare può essere utile, può essere funzionale e è evolutivamente utile, non significa che sia accurato e veritiero, anzi proprio dicevamo prima come ci sia il risparmio di risorse come obiettivo e questo inevitabilmente conduce a mancato approfondimento, perché se io mi baso sulle conoscenze, le caselle, le etichette che già ho e non le approfondisco, ovvio che non è una cosa approfondita, va da sé. Quindi non c'è spesso accuratezza e sono queste categorie, le etichette a volte sono inficiate dalla presenza di bias cognitivi che sono errori, distorsioni cognitive fondate su una percezione errata o deformata o euristiche che sono delle scorciatoie. Io per fare veloce uso delle categorie, delle etichette preformate, faccio veloce e rispondo velocemente a quello a cui devo rispondere nella mia vita quotidiana, ma questo non è accurato e non è necessariamente veritiero. Un'altra funzione che ci porta a usare categorie e etichette è quella di darci sicurezza, una protezione emotiva, perché il fatto di sapere delle cose, di averle incasellate, mi permette di gestire meglio la situazione, mi sa di più protettivo, so quello che sto facendo, so in che cosa mi sto muovendo, invece il fatto di mettersi lì a falsificarle, rivederle, vedere se l'esperienza le supporta o meno, mi espone a fatica nel senso di fatica cognitiva, ma soprattutto a un momento di incertezza, un momento di timore, non ho più le sicurezze che avevo. Ecco perché a volte è così difficile lasciare certe categorie che ci siamo portati dietro per tanto tempo per cercarne di diversi o per cercare di approfondirle, perché mi espone a un'incertezza, mi espone a qualcosa di non più così sicuro e spesso purtroppo le categorie e le etichette, gli stereotipi che abbiamo, li abbiamo senza tanto rendercene conto, può succedere che li passiamo, come si diceva anche prima, inconsapevolmente, perché li abbiamo sempre respirati, perché è stato sempre così, perché non ci siamo tanto interrogati, non abbiamo tanto riflettuto su quello che stiamo vivendo. Queste categorizzazioni qua che sono inaccurate o le categorizzazioni troppo rigide, però sono una vera e propria gabbia, non ci concedono di andare oltre, ci tengono lì dentro e non ci lasciano lo spazio e sono una gabbia non solo per noi, che le viviamo magari anche in maniera inconsapevole, ma sono una gabbia anche per gli altri perché gliele trasmettiamo, esplicitamente o implicitamente. Torniamo al procedere dello sviluppo, come abbiamo visto si sostanzia nell'intreccio tra esperienza, relazione, l'affettività unita alla sua esplorazione, apprendimenti impliciti ed espliciti. Abbiamo visto come i bambini piccoli e le bambine piccole inizino a apprendere, esplorare il mondo attraverso il loro corpo, attraverso l'autostimolazione, però è importante, molto importante anche la stimolazione che arriva dall'esterno, l'esposizione a stimoli, a novità, cose nuove. La stimolazione è un importante alleato dello sviluppo, ovviamente non si parla di bombardamento di stimoli, perché quello è un altro discorso, ma parlare molto con i bambini, permettere loro di esplorare, esplorare l'ambiente, esplorare se stessi, manipolare proprio fisicamente, a prendere con mano dall'esperienza e quindi permettere loro di vedere forme, colori, esporli a tutto ciò aiuta e sostiene molto lo sviluppo e può far sì che questo sviluppo sia più ricco e anche più rapido in alcuni casi. In questo si inserisce ad esempio l'importanza del libro per l'infanzia. Il libro per l'infanzia è una risorsa molto importante, soprattutto se letto insieme. È una risorsa perché coniuga moltissimi aspetti, moltissime tematiche, moltissime potenzialità. Coniuga la parola, coniuga la relazione, perché il libro per l'infanzia, soprattutto con bambini e bambine piccole, va letto loro e quindi si crea una relazione, un momento intimo tra chi legge e chi ascolta. Coniuga l'affettività, l'affettività che arriva sia dal condividere questo momento importante, sia dal leggere le emozioni sul libro, perché sono sperimentate dai personaggi, sia dal provare le emozioni leggendo la storia, sia dal confrontarsi con chi sta leggendo su questo turbine di emozioni che possono venire fuori. Coniuga forma, colore, quindi proprio stimoli visivi. Coniuga la possibilità di fare domande, di fare domande a chi sta leggendo il libro, di fare domande a chi lo sta ascoltando, di cercarle insieme le risposte a queste domande. Permette di misurarsi con le reazioni degli altri, alle situazioni che si incontrano, le reazioni dei personaggi, le reazioni di chi sta leggendo insieme a me, le reazioni mie. Permette di confrontare i punti di vista, le emozioni, anche perché i bambini non sono di certo fin da subito in grado di capire che esistono differenti punti di vista, differenti emozioni. Diciamo che all'inizio e fino a un certo punto del loro sviluppo, fin verso i cinque anni, dove si inizia un po' più a capire che ci sono molteplicità, è possibile svilupparle. I bambini hanno un pensiero un pochino più sull'egocentrico, tra virgolette, nel senso che pensano che quello che provano loro sia assimilabile a quello che provano gli altri. Il libro per l'infanzia, come anche altre occasioni, altri stimoli, può essere la possibilità di sviluppare il fatto che non sempre è così, di vedere negli altri, altre possibilità, altre emozioni, altri pensieri. Di ragionare anche, coniuga la possibilità di ragionare. La lettura infatti permette tantissime cose, permette di acquisire un vocabolario più ricco, permette di sviluppare il proprio pensiero, un pensiero che almeno può essere critico, può essere divergente, nel senso che può andare al di là di quello che è sempre atteso, cercare soluzioni nuove, creative. Permette di stare e sviluppare l'intelligenza emotiva, una delle componenti dell'intelligenza, perché conosco le emozioni, ne posso parlare, vedo che gli altri ne hanno magari di diverse dalle mie, c'è il confronto. Permette, come dicevo prima, di decentrarsi dal proprio punto di vista e provare a vedere che ne esistono gli altri, provare a vedere che cosa se ne pensa di tutto ciò. Permette banalmente di intrattenere e divertire, banalmente, ma nemmeno tanto, perché è importante come forma di divertimento e intrattenimento. Permette di sviluppare l'immaginazione, perché non è come un cartone animato in cui io vedo quello che capita, assorbo quello che sto vedendo, ma sono più attivo nella lettura del libro per l'infanzia, perché le sequenze non sono tutte rappresentate tramite illustrazioni. Quello che sta in mezzo, me lo devo anche un po' immaginare io, poi non è animata la situazione, quindi me la immagino un po' io. Quindi la lettura è un importantissimo alleato che stimola l'apprendimento e lo sviluppo di certe capacità, di certe competenze, però anche come strumento per avvicinare e creare spazio di riflessione e confronto, che sono utilissimi. Questo spazio di riflessione e di confronto è utile non solo per i genitori, ma per gli educatori, nonni, gli adulti in genere che hanno interazioni con l'infanzia. Questa utilità genitoriale ed educativa si esplica anche nel senso che il libro per l'infanzia può essere un supporto per stare su certe tematiche, magari un po' più complesse, un po' più difficili da approcciare e grazie al libro per l'infanzia ci si può ancorare, si può partire da lì per fare riflessioni, toccare argomenti complicati. Il libro ha la possibilità di avere immagini, di avere colori, di avere situazioni più leggere, di utilizzare parole semplici, quindi può essere non solo interessante per il bambino e accendere il bambino e la bambina la curiosità per la situazione, certe tematiche, ma può essere anche l'occasione di rendere meno denso, meno pesante l'affrontare certe tematiche e può dare l'occasione di fare domande su un tema su cui magari non ci si era soffermati precedentemente. Come dicevo può essere utile a livello di genitorialità perché la genitorialità è un territorio inesplorato, complicato, in cui i neogenitori non hanno istruzioni, non c'è un manuale in cui ci sia scritto, si fa così, 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 così e va bene sempre e comunque, però c'è la possibilità con ad esempio i libri per l'infanzia di avere un supporto su cose su cui non mi sento tanto di andare a braccio, ma ho bisogno di un alleato e questo mi permette anche di assumere una nuova prospettiva, di ancorarmi, perché poi da lì parte la parte individuale, la parte personale, ok, leggiamo la storia insieme, ci basiamo su quello che c'è scritto, ma poi da lì parte il nostro mondo, il mondo di chi lo sta leggendo, le nostre idee, i nostri pensieri, le nostre condivisioni, i nostri potenziali timori ed è l'occasione proprio di provare a vedersi uno con gli occhi dell'altro, confrontandosi e rispecchiandosi. Torniamo un attimo alla questione delle categorie e delle etichette, si diceva che il rischio è proprio la rigidità, il fatto che non siano categorie elastiche, ma che si rivelino infalsificabili anche di fronte a evidenze contrarie. Dalla rigidità, come dicevo, arriva la gabbia, perché se qualcosa è rigido, mi fa stare stretto lì dentro, io sono in trappola, sono ingabbiato. E sulla tematica di genere, degli stereotipi di genere, è proprio quello che può succedere. Io devo stare entro il perimetro di una certa etichetta. Gli stereotipi legati al genere non permettono uno sviluppo libero e sereno dell'identità individuale. lì non c'è una scelta o se c'è una scelta è tra un limitato numero di alternative pre-fornite. E qual è il momento migliore per parlare di identità, se non il momento evolutivamente atto a porre le basi per lo sviluppo dell'identità, quindi l'infanzia? Come dicevo, la gabbia, ma non solo gabbia, anche macigno, perché un'etichetta, un cliché, un modo di dover stare al mondo, mi pesa sulle spalle, non mi permette di fare altrimenti, o se me lo permette, perché non è una gabbia fisica, me lo permette a spese di come io mi sento rispetto a questo, a spese di biasimo, di sentirmi sbagliato, ed è un macigno per chi sta cercando il proprio modo di stare nel mondo. Può esserci una sfumatura un po' differente rispetto allo stereotipo sul femminile o sul maschile nei termini di impatto sulla persona. Sul femminile assistiamo a spesso paletti di vieti, scoraggiamenti rispetto a certe tematiche, certi ruoli, certi lavori, certi interessi. Lì quello che passa è l'inappropriatezza. Tu quella roba non la puoi fare perché non è appropriato per una femmina, una bambina, una donna. Tu quella cosa non la puoi fare perché non sei capace, non sei in grado. Questa sfumatura è molto spesso presente sullo stereotipo sull'identità di genere al femminile. Su quella al maschile a volte la sfumatura è più sull'inibizione, sulla vergogna, sull'impossibilità di esprimere tutta una fetta di emotività, di cura che non si ritiene, secondo il cliché, adeguata rispetto a un bambino, un maschio, un uomo. E quindi c'è tutta questa parte di doversi precludere una fetta dell'esperienza. Questo può creare dei grossissimi danni a livello di esplorazione emotiva e affettiva perché adesso pensiamo ad esempio a un bambino, un maschietto, che rispetto a qualcosa che gli succede piange. Molto spesso purtroppo succede che gli si rimandi, ma no, ma cosa fai, ma piangi, piangere da femminucce. Questo potrebbe anche sembrare qualcosa di banale e di non così grave. In realtà è molto grave perché mi si sta dicendo che il mio modo di affrontare una situazione è sbagliato, che io quello non lo posso fare e a parte il fatto che non mi si dà un'alternativa mi si preclude tutto il mondo. Quindi io quella fetta di tristezza, di frustrazione, di difficoltà, di dolore, come me la gestisco, se non la posso gestire tramite le lacrime, su cosa la butto? E si creano poi difficoltà crescendo perché di fronte a frustrazioni, di fronte a dolore, se io non ho potuto esplorare questa parte qui di stare nel mio dolore, piangere, sfogarmi solo perché sono un maschio e i maschi non devono, allora si crea confusione, si crea impossibilità di gestirla in qualche modo e chissà dove va sfogata. Quindi tutto ciò, tutto questo mettere dei freni, dei paletti, imporre qualcosa ha grosse ripercussioni sul senso di sé, sulle strade che si potranno percorrere sia a livello femminile che a livello maschile. Diciamo che lo vediamo intorno a noi, siamo abituati a essere esposti a un certo tipo di situazioni, pensiamo ad esempio a un qualsiasi negozio di abbigliamento, sul reparto infantile assistiamo al tripudio del rosa e varie sfumature nel reparto delle bambine e al tripudio del blu e sfumature simili nel reparto maschili. Per fortuna non è più solo e soltanto così e la situazione sta cambiando, però c'è ancora una grossa preponderanza, quindi già solo a livello cromatico. Pensiamo invece anche ai giocattoli, sotto le feste, sotto Natale, lì è proprio il tripudio dello stereotipo e del cliché perché i reparti sono proprio fisicamente divisi o anche solo i cataloghi sono proprio divisi tra maschi e femmine e nella parte femminile c'è la cura della casa, della famiglia, della persona e nel reparto maschile c'è la guerra, c'è la scienza, c'è la lotta mostri ed è proprio fisicamente diviso, questo dà un grosso messaggio ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e anche agli adulti. Poi si passa da lì ai mestieri, i mestieri che sono come cliché per forza aderenti a ruolo maschile o a ruolo femminile e tutto quello che si discosta da quello che si tramanda rischia di essere additato, incontrare biasimo, disapprovazione, anche se non la incontra esplicitamente rischia di incontrarla implicitamente. Questa non è affatto libera scelta, non è un libero sviluppo e non conduce alla felicità. Vediamo dei possibili esiti degli stereotipi di genere. Può arrivare a strutturarsi un falso sé, quindi un'adesione a modelli altrui, all'identità di qualcun altro non la mia, a un futuro obbligato o comunque come si diceva all'inizio ha un scegliere ma tra un limitatissimo numero di opzioni aderenti a un certo cliché. Senza arrivare alla strutturazione di un falso sé non si crea una situazione di felicità, quindi quello che poi può anche conseguirne è un'infelicità, una mancata realizzazione. Questo può intaccare l'autostima ovviamente, può creare un senso di disvalore, come dicevo prima ci si può sentire sbagliati, non è il mondo a essere sbagliato ma sono io. Può creare emarginazione ovviamente, non sentirsi capiti, sentirsi distanti emotivamente dalle altre persone. Come dicevo prima nel caso dell'impossibilità di esprimere ad esempio la tristezza, la frustrazione attraverso il pianto nel caso maschile, c'è il rischio di analfabetizzazione emotiva, sia al maschile che al femminile, perché se io ho un freno su un certo tipo di espressione di emozioni, di tematiche, di pensieri, quella fetta lì non la sviluppo, quindi quando mi capita non so come gestirla, non so su cosa buttarla, non so come ovviare. Si può creare attriti, si creano attriti tra bambini e bambini, maschi e femmine, perché i ruoli sono molto differenziati, c'è disparità, si crea competizione tra quello che io posso e non posso fare, tu puoi e non puoi fare. Questo non crea benessere e armonia, crea un po' il fatto di far parte di fazioni, di mondi diversi. Questo può condurre a esasperarle queste le differenze che si vivono. Chi si sente non conforme a un certo cliché, perché ha delle preferenze differenti da quelle che la cultura, la società, le persone intorno a lui o a lei, dicono che si dovrebbero avere, può per forza personale seguire le sue inclinazioni e le sue preferenze, però non è un seguire libero, si rischia di buttarlo poi sul desasperarla, questa cosa che vivo, sulla rabbia, quindi non sono libero e sereno nel mio preferire, non so, io da donna fare il meccanico, non mi sento libera e serena di farlo, perché invece mi viene rimandato che non è tanto un lavoro da donna e quindi io magari lo faccio, perché ho la forza di farlo, qualcuno che mi supporta in questo, però lo faccio esasperandolo e vivendolo un po' come rivalsa, un po' con rabbia, il rischio è anche questo, si crea poi purtroppo con gli stereotipi di genere l'alibi per questa disparità, perché il fatto che si sia fatto da tanto, che si continua a far così, che la cultura, la società mi passino certi messaggi, mi porta a pensare che sia una cosa attesa e quindi da un lato si può continuare a perpetrare la situazione, perché si è sempre fatto così, me lo sento buttato addosso e quindi vado avanti così e lo imporlo anche agli altri e dall'altro ad accettare passivamente quello che mi viene inculcato o di cui non sono neanche tanto consapevole. Un altro possibile esito è proprio quello della trasmissione intergenerazionale, cioè il fatto di avere questi fili invisibili, spesso purtroppo inconsapevoli, che portano fare sempre la stessa cosa, esportare sempre lo stesso pensiero, lo stesso cliché, lo stesso stereotipo e perpetrare in continuazione la stessa situazione fuorira di infelicità e di difficoltà. Ovvio che uno o più esiti negativi non è che dipendano dal fatto che io venga sottoposta o qualcun altro venga sottoposto a stereotipo una, due, tre volte, ma ovviamente più è qualcosa che mi succede, più sono immersa in qualcosa, più diventa ingabbiante e in una società come la nostra in cui l'esposizione può arrivare da qualsiasi contesto, da qualsiasi ambito, ovvio che l'esposizione si moltiplica perché gli stereotipi, i cliché, le etichette ci arrivano dalla pubblicità, pensiamo alle pubblicità anche solo di giocattoli o anche di tutt'altro, però che hanno sullo sfondo qualcosa che richiama agli stereotipi, mi viene in mente adesso l'illustrazione rispetto, adesso che siamo in periodo, purtroppo in periodo covid rispetto all'app immuni c'è stato tutto il dibattito e la polemica perché era illustrata una mamma con il bambino e il papà che lavorava al computer, quello succede, quello ci arriva, quello ci passa e quello assorbiamo, quindi marketing e pubblicità già ci sommergono di tutto questo, può arrivare dal contesto familiare perché non è che arriva solo da fuori, arriva anche da dentro tutto questo, io sono anche una mamma e il fatto di essere mamma mi porta a confrontarmi spesso con altre mamme, altri papà, altri genitori e capita molto spesso purtroppo di sentir dire da altri genitori e i loro figli, questo è da maschio, quello è da femmina o sentirli inibire o castrare tra virgolette in qualche modo, spesso in maniera neanche consapevole, spesso con il linguaggio esplicito, a volte con il linguaggio implicito e succede intorno a noi anche nelle famiglie, può succedere nel contesto scolastico, in quello lavorativo, le divergenze, le disparità di ruolo, di possibilità, di salario, sono tutte cose che fanno passare lo stereotipo, il pregiudizio e l'impossibilità del cambiamento e come dicevo prima può arrivare dal contesto familiare, però la famiglia come può ingigantire il peso della cultura perché se l'imposizione mi arriva dall'esterno e in famiglia questa imposizione viene abbracciata, ovvio che l'esito è ancora più negativo, può anche agire in senso opposto perché la famiglia può anche essere un contesto di possibilità, di occasione di cambiare le cose perché più c'è permeabilità al confronto, sensibilità a queste tematiche, possibilità di confrontarsi, possibilità di esplorare le varie possibilità, più la cultura dominante può avere un peso meno preponderante perché la famiglia prova a scardinarlo e quindi l'impatto potrebbe essere meno deleterio, quindi la famiglia può essere un ostacolo in questo senso se, come dire, sottolinea quello che già la società, la cultura mi sottolinea, ma può essere occasione di cambiamento e di supporto, per questo a volte è importante partire anche dal piccolo perché da lì si gettano delle basi di supporto, di considerazione di altro, di pensiero che poi possono o non possono trovare supporto all'esterno. Il contesto e l'influenza sociale si affacciano ovviamente quando inizia di più la socializzazione esterna, quindi a livello scolastico, a livello di famiglia allargata e lì i condizionamenti, come dicevo prima, possono proprio moltiplicarsi, però in ogni segno ed è importante proprio anche a livello scolastico, è importantissimo far leva sulla varietà, lì c'è la possibilità data agli educatori, a chi circonda i bambini di far respirare la possibilità del differente, del non tutto è sempre così dovuto e incasellato in un certo sorco, ma ci sono possibilità differenti per uscire da una visione a tunnel, questa è un'importante occasione nel contesto scolastico, in quello lavorativo, in tutti i contesti esterni, perché come il singolo può cambiare la cultura passetto a passetto, anche la cultura, quindi il mondo più esterno può fare dei grossi passi per cambiare i singoli. Tutto questo non per dire che allora adesso ribaltiamo tutto, stravolgiamo tutto il concetto e per banalizzare un po' basta rosa per le femmine, basta blu per i maschi e adesso sovvertiamo tutto, perché non avrebbe alcun tipo di senso, ma per capire l'importanza di offrire l'alternativa, di dare la possibilità di pensare che un'alternativa ci sia e sia possibile, perché se poi una bambina o un bambino si sentono di avere delle preferenze che sono anche perfettamente aderenti a quel cliché, ma va bene così, a patto che sia una scelta e non che sia un mi piace il rosa perché alle femmine deve piacere il rosa, mi piace il blu perché ai maschi deve piacere il blu, deve essere una scelta libera, nel senso mi si deve dare l'occasione di dire nel mondo ci sono x colori, io che sia femmina o che sia maschio posso preferire qualsiasi dei colori, poi se io femmina preferisco il rosa, va bene così, non è questo il discorso, non si vuole ribaltare tutto, si vuole dare la possibilità di vedere che c'è anche un'altra possibilità, si vuole superare l'esito tossico dello stereotipo di genere, l'esito pericoloso cambiando le cose, cambiando prospettiva attraverso il dialogo, il confronto, il supporto di qualcosa di differente dal si è sempre fatto, si è sempre detto e questo si può fare non soltanto con il dialogo, il confronto ma anche attraverso strumenti, come dicevo prima, come libri, fumetti, film in prospettiva antisessista, antidiscriminatoria, questo è molto importante perché attraverso questi supporti, oltre a parlare della possibilità di qualcosa di alternativo, lo vedo, lo vedo espresso, magari vedo storie di qualcuno che si sente come mi posso sentire io e allora vederlo e sentirlo fa sentire autorizzati a pensarci, a parlarne, a esplorarlo, a confrontarsi, la cosa importante è che se di qualcosa posso parlare vuol dire che è affrontabile e qui l'esempio diventa un esempio virtuoso, un esempio che può liberare, se vedo condivisione nel mio modo di sentirmi, posso sentirmi meno solo, più autorizzato a esplorare il mio sentimento, ma non solo perché non deve essere solo nel senso di chi la vive come me, dovrebbe essere anche nel senso di chi si sente perfettamente aderente ad un cliché senza nessun tipo di problema, ma dà la possibilità agli altri di vedere modalità, scusate, differenti di pensare, di vivere, di sentire differenti dalla propria, perché non vale solo se io ho un disagio in tal senso, vale a livello globale, devo dare la possibilità agli altri di sentirsi bene in quello che desiderano, in quello che amano. Se fin da piccoli siamo aiutati, supportati e portati a confrontarci con la pluralità, la molteplicità e non invece con chiusura, rigidità, gabbie, va da sé che non ci sentiremo costretti a seguire certe strade, ci sentiremo più liberi e soprattutto non ci sentiremo portati a imporre agli altri l'osservanza di cose in cui ci siamo sentiti noi costretti, quindi se non è per una difficoltà nostra di confrontarsi con l'etichetta e il cliché, dobbiamo pensare alle difficoltà di chi abbiamo intorno, di chi verrà dopo di noi, delle generazioni a seguire. Va però un po' chiarito un rischio di fraintendimento, perché quando si parla di stereotipi di genere, cliché, libertà di scelta, si rischia di essere fraintesi. Questo non è un discorso sulla sessualità fluida, sull'omosessualità, sull'orientamento sessuale, è un discorso sulla libertà di pensiero, sull'apertura mentale, sulla libertà di strutturare la propria identità, il proprio futuro lavorativo, il proprio benessere, anche solo i propri passatempi in modo libero da un tu devi far così perché sei maschio e tu devi far così perché sei femmina. E questo non significa riferirsi all'orientamento sessuale, assolutamente no, si tratta di sensibilizzare l'apertura mentale, anche perché non è possibile indirizzare o meno qualcuno verso una preferenza così intrinseca e così specifica come quella dell'orientamento sessuale. Nessuno mi può dire ti deve piacere un uomo o una donna rispetto all'emotività, rispetto alla sessualità. Quello che si dice adesso e su cui si cerca di far riflettere è l'impatto della scelta obbligata, della gabbia che genera dallo stereotipo di genere, non un discorso su sessualità e orientamento sessuale. Quindi l'invito è quello di porre la riflessione su questi temi, sugli impatti di tutto questo sui nostri bambini, i nostri bambini, i nostri ragazzi, le nostre ragazze e su quello che poi diventeranno e vorranno diventare e soprattutto provare un po' a lavorare sul rendersi consapevoli di quello che pensiamo, di quello che viviamo, di quello che esterniamo, perché è il primo passo per il confronto, per il cambiamento, per far qualcosa in tal senso è prima di tutto rendersi consapevoli di quello che facciamo, che viviamo, che sentiamo, di quello che abbiamo intorno. Dalla consapevolezza può arrivare poi il cambiamento, però prima dobbiamo renderci guardarci anche un po' dentro e capire che cosa stiamo facendo, cosa stiamo pensando e che influssi ha la cultura, la società, le relazioni su di noi per poi avviare questo spazio di confronto e di liberazione anche di tutti gli altri da queste gaffie. Ok, ho finito con la mia esposizione, spero di non avervi annoiato troppo, addormentato, ubriacato di parole e vi ringrazio molto per aver partecipato, per l'attenzione e vi auguro una buona serata.